La battaglia di Legnano secondo la versione di un vecchio libro Federico Barbarossa avuta notizia della lega che aveva fatto la città lombarde andò subito in Germania l'ha messa insieme un forte esercito e tornò in Italia passando per il Moncenisio arrivato ad Alessandria fabbricata appena da sei anni la cinse d'assedio tanto potè in quel popolo l'amore della libertà che il tedesco non la potè pigliare e fu costretto a ritirarsi in sicuro a Pavia qui gli giunsero nuovi rinforzi e prese la via di Milano ma i milanesi che primi erano esposti alle offese del nemico non dormivano avevano essi formate due coorti dei più animosi e gagliardi giovani che fossero fra loro una di 900 detta del carroccio l'altra di 300 detta della morte e avevano giurato di vincere o morire gli altri seguivano in sei schiere gli standardi della città dei soldati della lega non erano arrivati altro che quelli di Piacenza e alcune schiere di Verona Brescia Novara e Vercelli ma che importava i milanesi mossero ereditamente contro i tedeschi e li trovarono presso Legnano il dì 29 maggio del 1176 prima pregarono Dio per la vittoria e poi a bandiere spiegate con una furia che mai si scagliarono addosso il nemico vi fu un momento che la compagnia del carroccio vacillò ma quella della morte ripetendo ad alta voce il giuramento di vincere o morire assalì con tanto impeto le schiere nemiche che andarono sgominate Federigo che combatteva nelle prime file facendo cose degne del più animoso cavaliere caduto di sella fu creduto morto e come tale pianto dalla moglie ricomparve a Pavia dopo cinque giorni dalla battaglia ma vinto e umiliato gli accampamenti i bagagli la cassa militare le armi dello stesso Federigo vennero nelle mani dei vincitori dopo questa battaglia Federico Barbarossa trovandosi a me partito cercò di accomodarsi con quelli della Lega vi furono delle trattative che andarono in lungo ma finalmente la pace fu stabilita a Costanza nel 1183 il fondamento fu che le città della Lega godessero delle acquistate libertà e che l'imperatore rimaneva sempre il supremo padrone di tutti a quei tempi non avevano l'idea di indipendenza ogni comune credeva di poter vivere da sé ed erano contenti quando potevano scegliere il proprio arbitrio i consoli i giudici e di poter fare liberamente la guerra al comune vicino questa è una vecchia versione di circa centocinquanta anni fa che c'è che c'è